Ciao a tutti ragazzi, qui è ARK vi parla e un altro world record è finalmente caduto. Il 149 di FIGZO, che è lì da non so quanto tempo su Transit, secondo me sono già diversi anni, è anche questo caduto. Abbiamo qua un round per adesso 150 più di Tidy Barbecue XD e dico per adesso 150 perché il game sta andando ancora avanti. Io personalmente volevo aspettare che finisse il game per farci come al solito un video riguardo e appunto qualcosa di un pochino più completo per parlare di tutta quanta la partita. Ma secondo me questo game già adesso è qualcosa di veramente incredibile e sicuramente quando finirà farò un altro video magari aggiornamento un pochino più corto, un po' più tranquillo per dire il risultato definitivo. Questo ragazzo sta giocando da circa 33 ore a Transit e sta andando ragazzi veramente come un treno. Sta giocando davvero benissimo, la strategia me la ricordavo molto più lenta e un po' più imperfetta. Non so se lui che in qualche modo l'altra virgoletta è perfezionata o sta giocando appunto veramente benissimo ed è andato molto più velocemente di Fixio. Tipo quando è arrivato già al 148-149 era un'ora e mezza in anticipo a Fixio che per un world record secondo me è davvero tanto e sta continuando a giocare in questo modo per tutto il resto del game. In questo momento è circa mezzanotte del 24 sera, è al 154 e dice che vuole finire il 154, fare un pezzo del 155 e sicuramente domani andare a continuare. Come sempre per quanto riguarda Transit non c'è un vero e proprio reset ma piuttosto degli errori che fanno interrompere il game. Infatti Fixio è cresciato al 149 dopo tipo 6-7 minuti del round per un Hank Error, una roba del genere e appunto dopo 31 ore il game così si è concluso. Ma secondo me Transit può essere spinta molto molto più avanti ma come sempre per quanto riguarda questi errori al contrario del reset magari non è che ci sia proprio un tempo stabilito ma è il gioco che decide appunto cosa funziona, cosa non funziona e quando crashare o altrimenti alcune meccaniche che noi andiamo ad utilizzare proprio per fare questi round dopo un po' di tempo possono causare un crash quindi più volte lo facciamo, peggio è teoricamente ma bisogna farlo per forza per andare avanti. Inoltre quanto ho capito tipo dal 156 in poi la jet gun non funziona benissimo per uccidere gli zombie questo soltanto su PC non mi è ancora molto chiaro se qualcuno ha qualche dettaglio o spiegazione in più e può fondere nei commenti ne sarei estremamente riconoscente quindi mi sembra di capire che dopo sarà un pochino più bruttino e faticoso poter proseguire con i round perché ripeto per adesso sta andando veramente molto veloce i round durano tipo 25-30 minuti che devo ammettere non è neanche così tanto considerando la velocità di spawn in questa zona che non è il massimo e generalmente appunto la jet gun dico sempre che Transit come mappa in sé non è affatto brutta anzi è molto bella ma specialmente da poter giocare in co-op per quanto riguarda le partite in solo e specialmente i record penso sia una cosa veramente molto molto noiosa e la jet gun non è sicuramente una delle wonder weapon più belle né in assoluto né su black ops 2 se io penso alle wonder weapon più belle di appunto questo gioco o i bastoni di origins o il paralizzatore di bari e degli quei fattori di die rise la spingata potenziata e quindi anche il tomoc che si utilizzano negli i round per mob of the dead mentre la jet gun di Transit appunto presentava molti problemi ci sono delle strategie per utilizzarla al meglio come questa strata del tirapugni che sta utilizzando Tidy Barbecue però chiaramente richiede molta pratica bisogna stare comunque attenti a non fare delle stupidaggini e bisogna comunque riuscire a imparare bene la strategia e capire come funziona altrimenti non si può fare assolutamente nulla motivo per cui le vecchie strategie erano letteralmente sparare a caso con questa jet gun e cercare di uccidere qualche massa di zombie e cercare in qualche modo di farla raffreddare e mentre abbiamo in mano praticamente un razzo di non so quanti quintali con cui siamo molto molto lenti e che comunque fa fatica a uccidere e se superiamo la barra rossa si potrà rompere in maniera definitiva e andrà ricostruito è chiaramente un problema e generalmente spostarsi in questa mappa è una cosa molto molto noiosa e setup iniziale non è sicuramente uno dei più divertenti o più appaganti perché alla fine arriva a sua città prendi i punti dalla banca prenditi i perk trovati l'arma costruendola e ottieni tutto il resto e praticamente abbiamo già finito è già finito nel senso che le cose da fare non sono troppe per ogni volta spostarsi da una zona all'altra o con i teletrasporti che sono casuali o anche a piedi e col bus richiede un po' di tempo e si perde tutto quanto soltanto ad aspettare o fare spostamenti tra virgolette inutili motivo per cui generalmente la conversazione torna sempre sul fatto del quando rivedremo transit se andremo a rivederla con un fantomatico zombie chronicles 2 o come mappa al lancio del prossimo black ops potranno magari rimuovere la nebbia come un tempo si parlava del fatto che questa nebbia è soltanto per bloccare il giocatore e permetterà al gioco di caricare le sezioni successive ed è appunto qualcosa che è stato introdotto per soltanto ovviare alla poca potenza che ai tempi era permessa alle console dopo tutto transit è una mappa veramente gigantesca e per i tempi qualcosa di veramente incredibile e mai visto prima con così tante sezioni minori tutte collegate e tutto questo spazio in mezzo praticamente in realtà vuoto quindi senza nebbia ci sarebbe il problema di alcune zone completamente senza senso perché sono soltanto di passaggio che sia a piedi o col bus ma realmente a parte gli spawn degli zombie non c'è nulla di così interessante a parte alcune zone dove c'è la casetta col Bowie magari la zona della corrente in mezzo c'è qualche cosetta interessante ma per il resto anche si eliminerebbe il problema dei Denizen ovvero quelle specie di mostriciattoli che ti saltano in testa quando sei nella nebbia ma il loro vantaggio o utilizzo di questi mostriciattoli è semplicemente che noi nella nebbia non vediamo assolutamente nulla e loro ci danno un fastidio in più quindi facciamo fatica a muoverci dobbiamo stare attenti sia a loro che agli zombie quindi è molto pericoloso passare di qua a piedi e non con i teletrasporti o con appunto il bus che dovrebbe essere il sistema base per spostarsi in questa mappa così ampia che però è molto lento non scegliamo noi i tempi né la durata degli spostamenti perché è una cosa veramente veramente pessima spero in futuro comunque di poterla rivedere perché come mappa ha un certo significato e siamo magari legati a Black Ops 2 come code originale con cui abbiamo iniziato magari a giocare o alcune mappe comunque ci siamo davvero tanto legati però potrebbero migliorare sicuramente un po' di cose e spero anche una specie di o magari un rework per quanto riguarda la jet gun o in qualche modo modificare il suo funzionamento in maniera o molto grande o anche soltanto minore sicuramente il suo riscaldamento dovrebbe esserci perché come arma ha tra virgolette i colpi infiniti però non so il suo riscaldamento che può rompere l'arma andrebbe completamente ricostruita da zero inoltre il suo funzionamento un po' particolare l'abbiamo sfruttato sempre in maniere molto strane con tipo il tirapugni oppure uccidere uno zombie alla volta non lo so, non mi ha mai ispirato troppo come arma è un utilizzo magari interessante quello che la community è riuscito a fare ma allo stesso tempo non saprei in più di me ricordarci che questa mappa ha introdotto magari il doppio sistema di easter egg con Max e Zerich Tofen ha introdotto Avogadro come boss che magari non è proprio fortissimo ma ci dà molto, molto fastidio appunto come ho detto prima è una mappa così grande con molte sezioni anche tra virgolette inutili come la Nackderan Totten che possiamo trovare in mezzo al campo di grano però generalmente come mappa ha introdotto moltissime meccaniche che sono diventate quasi il futuro o comunque grande innovazione per quanto riguarda questo gioco e tutti i giochi che sono venuti dopo di lui per cui in qualche modo secondo me andrebbe rivista fa comunque molto strano poter vedere un record così vecchio come il 149 di Fixou che un tempo aveva praticamente tutti i record per questo gioco che anche questo viene battuto da questo ragazzo che se ricordo bene dovrebbe avere anche i world record di Die Rise e Origins in singolo quindi è sicuramente uno molto molto capace e non avrei mai pensato che qualche matto sarebbe tornato su questo gioco e specialmente su questa mappa per cercare di battere il suo record e anche di diversi round giocando parecchie ore aggiuntive e che sta comunque andando ancora avanti per cui speriamo possa fare un round veramente come si deve e anzi possa andare molto molto più avanti prima aveva detto che il suo obiettivo era 155 e poi diventato quello che riusciamo a fare lo facciamo per cui speriamo gli arrivi un errore molto molto tardi possa andare a giocare ancora molto tempo e spingere ancora più avanti un record che secondo me già prima era assurdo adesso sta diventando veramente incredibile ai massimi per cui ragazzi come sempre trovate il link in descrizione per il canale di questo ragazzo che sta continuando a giocare penso sia inglese quindi l'orario è più o meno giusto per quanto riguarda noi europei e italiani giusto un'ora indietro quindi continuerò a giocare più o meno per i nostri stessi orari e cercherò di seguire tutta quanta la partita e appena finirà magari farò un altro video aggiornamento in cui descriverò i round finali come è andata e magari se in futuro questo ragazzo sta avendo altre idee per altre mappe dopo tutte le mappe sopravvivenze sono state tutte o quasi tutte conquistate da Chris Valdage che ha fatto il 100 su Nuketown il 100 su Città il 96 su Farm e ho visto che sta pensando di provare o Depot oppure Mob of the Dead quindi per quanto riguarda il record come sempre stiamo andando avanti davvero ai massimi per quanto riguarda questa quarantena nonostante dei momenti di alto e basso perché molto spesso noi parliamo dei momenti incredibili in cui un record viene battuto viene raggiunto qualcosa di assurdo ma ci sono anche delle partite in cui tutto questo purtroppo non accade di recente a round 147 circa Phoenix e Kebab volevano fare world record su Moon e penso agli stacking round purtroppo c'è stato un problema col PC di Kebab il partner di Phoenix quindi purtroppo hanno dovuto concludere il game dopo ben 53 ore quello è stato veramente brutto e allo stesso tempo più o meno nello stesso orario anche Cup che era circa al 120 su Nuket ed era a un orario spettacolare una grandissima partita per battere il suo stesso world record 144 su Nuketown Kopsuno anche lui ha avuto tipo un errore un crash un qualcosa qui la partita si è conclusa infatti quel giorno è stato veramente pessimo perché abbiamo pensato quasi tutti i record che stavano venendo comunque fatti perché erano delle ottime partite che stavano proseguendo purtroppo sono stati interrotti per alcuni problemi e quello è veramente frustrante stancante demotivante perché noi vediamo questo ragazzo che ha giocato magari 50 ore di fila dormendo pochissimo come Phoenix che deve quittare la partita e si mette fin da subito a iniziarne un'altra davvero come un matto una cosa da guardare veramente molto strana ma dobbiamo ricordarci che ormai per essere al top per alcune mappe zombie e alcuni record si fanno dei sacrifici davvero incredibili e le partite portano veramente allo streno massimo alcuni giocatori quindi come sempre porto molto molto rispetto per chi fa i cosiddetti veri e propri high round quindi gioca 30 50 60 70 anche 120 200 ore alcune mappe che sia con ore di sonno o senza ore di sonno in qualunque caso è un'impresa veramente assurda quindi tutti questi round player hanno il mio rispetto più incredibile per cui ragazzi voglio sapere come sempre le vostre opinioni riguardante questo game che sta ancora continuando io non penso di aver mai fatto più di 50 o neanche 40 in singolo su transit quindi invece 150 nella mia testa suona veramente incredibile e anzi quasi impossibile ma sta accadendo davvero davanti ai nostri occhi quindi cercherò di continuare a seguire questa partita perché è veramente assurda come sempre seguirla nella sua interezza è molto molto noioso e non oso immaginare giocarla per questo giocatore però 25-30 minuti per un round al 150 più su transit nella mia testa non suona neanche come così lungo quindi può fare ancora veramente tanti round crash errori strani permettendo come sempre in descrizione oltre che il link per il canale di questo player c'è anche il link per il mio canale Twitch e la mia pagina Instagram mi invito a seguire entrambi in questi social e ovviamente seguirmi anche qua su YouTube con un'iscrizione noi ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio Ava